Vi potete accomodare? Adesso lasciamo spazio ai ragazzi con due brani giovani, freschi, ritmati, Dramsoft, Corona e Let's Rock. Questo anche perché le bande, come si pensava una volta, non fanno solo marcette, marce sinfoniche, brani tendenzialmente classici, ma anche questi qua leggermente più frizzantini che accolgono di più comunque il piacere, il favore dei ragazzi. Giulio Tortello. Giulio Tortello. Giulio Tortello. Giulio Tortello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.